Siamo qui, a Ventimiglia, sul Bervedere a Resentello, il mare, come potete vedere, si è completamente allargato ed ha mangiato quasi completamente la spiaggia. Il tempo, fino a questa mattina, è di tipo quasi tropicale, addirittura questa mattina faceva un caldo assurdo con un gran sole, poi piogge rapide, molto potenti, è un mare che si è ingrossato in maniera notevole, risentendo di questa perturbazione che da tempo è qua vicino, a largo della Francia, sta facendo anche nella vicina costa azzurra dei gravi danni. Cerchiamo di proseguire adesso, so che la piazza ha dato un attimo di tregua, e andiamo a guardare in maniera ovviamente totalmente sicura, facendo molta attenzione, lo stato del fiume. Guardate laggiù, in verso la Francia, la foschia. Detto questo, andiamo e poi ci rintegniamo in casa.